Con il presidente Mauro Paone del Comprensore, allora ho tre punti importanti ai fini della classifica e dell'obiettivo finale. Sì, fondamentalmente oggi era una partita fondamentale, anche perché i nostri inseguitori hanno fatto un passo falso e quindi noi è come se avessero guadagnato sei punti. E quindi fondamentalmente è un passo importante che ci avviciniamo al nostro obiettivo. Lei ti ha convinto la prestazione della squadra a prescindere del risultato? No, a prescindere dal risultato una prestazione un po' sottotono, però comunque tutto sommato abbastanza accettabile. Ora cinque finali, l'obiettivo è quasi vicino, ossia la promozione? Sì, indubbiamente l'obiettivo si avvicina, però non abbiamo ancora niente di certo, quindi la matematica non l'ho inventata, ma è una cosa certa, quindi finché non c'è matematica non c'è certezza. Grazie. Niente, a voi, buona domenica.